Oroscopo del giorno. Venerdì 17 maggio 2024. Ariete. Amore. Tutto abbastanza tranquillo in amore durante questa giornata. Potrete godervi con tranquillità le emozioni che verranno con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro. Professionalmente, invece, non sarà un giorno pieno di novità. Dovrete attendere delle migliori stelle. Toro. Amore. La congiunzione di venere sarà dalla vostra parte ed infatti avrete delle belle emozioni tutte da vivere con il partner oppure nel rapporto di nuova conoscenza se siete single. Lavoro. Bene a lavoro con Mercurio e Giove. Sarà un venerdì abbastanza buono in ufficio. Gemelli. Amore. Non sarà una giornata ricca di novità per le coppie o per i nuovi incontri dei single. Dovrete attendere un ritorno di venere completamente nel segno per poter sperare in qualcosa di speciale in amore. Lavoro. Occhio perché da oggi potrebbero spuntare dei problemi più rilevanti sul posto di lavoro. Cancro. Amore. Meglio in amore con una posizione di venere che potrebbe veramente portarvi più lontano, soprattutto per chi ha avuto problemi in zona sentimentale. Lavoro. Mercurio e Giove saranno in buon aspetto anche se le energie oggi potrebbero non essere affatto delle migliori. Leone. Amore. Attenzione a questo venerdì del mese in cui il pianeta dell'amore non vi sosterrà affatto sul piano sentimentale e dei rapporti. Potrebbero esserci dei problemi con le persone vicine. Lavoro. Dovrete provare a cercare un certo equilibrio professionale. Vi servirà per ottenere risultati e gratificazioni. Vergine. Amore. Questo nuovo giorno di maggio sarà caratterizzato da una posizione di venere abbastanza buona e potrete sperare in qualcosa di interessante in amore. Anche per i single potrebbero giungere emozioni belle, oltre che nuove. Lavoro. Giove sarà dalla vostra parte e voi potrete impegnarvi al meglio in ufficio. Bilancia. Amore. Cercate di stare più attenti in amore perché l'umore potrebbe non essere dei migliori. Venere tornerà dalla vostra parte solo intorno alla fine del mese. Lavoro. Mercurio oggi sarà in posizione opposta e questa potrebbe essere una situazione abbastanza complicata da dover gestire. Scorpione. Amore. È probabile che con la vostra dolce metà vi ritroverete a dover prendere una decisione importante. Occhio quindi anche a qualche difficoltà che potrebbe spuntare in ambito amoroso. Lavoro. Buone nuove possibili sul posto di lavoro, la posizione di Giove sarà favorevole. Sagittario. Amore. Bene in amore dove potrete godervi il vostro rapporto. E se avete avuto dei problemi con qualcuno, proprio in questo periodo, magari oggi, potrete risolvere parlandone con la persona vicina. Lavoro. Tutto bene sul piano professionale dove difficilmente arriveranno problemi o complicazioni. Capricorno. Amore. Questa sarà una giornata in cui Venere sarà in buona posizione. Proprio per questo motivo potrete godervi senza intoppi i sentimenti, i rapporti personali. Lavoro. Purtroppo nonostante tante stelle in buon aspetto, avrete tanta stanchezza da dover combattere. Acquario. Amore. La giornata in corso sarà non sarà al top in amore in quanto la posizione di Venere sarà sfavorevole. Un venerdì poco entusiasmante in amore, con il partner o con una conoscenza nuova se siete ancora single. Lavoro. Occhio a delle problematiche sentimentali che potrebbero complicare i vostri impegni professionali. Pesci. Amore. Una giornata in cui avrete una bella posizione di Venere dalla vostra parte. Questo potrebbe essere un giorno interessante soprattutto per quei single che attendono di fare conoscenze nuove. Lavoro. Bene Mercurio che potrebbe darvi delle novità, delle notizie che potrebbero farvi piacere. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie.